Costantino Vitaliano, chi è, età, carriera, uomini e donne, e la fidanzata, figlia, oggi, foto e Instagram. Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con oggi e un altro giorno. La trasmissione in onda dalle 14 è condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi. Oltre al ricordo di Nila Pizzi e alla giovane scrittrice Maria Castellitto, anche Costantino Vitaliano. Che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all'amore. Costantino Vitaliano è nato a Milano il 10 giugno del 1974 ed è un noto personaggio televisivo. Ex modello e attore. Lui, per chi non lo sapesse, è diventato noto nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato nel 2003 a Uomini e Donne. Trasmissione pomeridiana di Canale 5 che vede alla conduzione, ormai da anni. Maria De Filippi. Dopo alcune apparizioni come Valletto, Costantino a Uomini e Donne ha scelto come sua fidanzata Alessandra Pirelli. Poi nel 2006 e nel 2007 è diventato uno degli inviati della trasmissione Stran Amore. Costantino Vitaliano nel 2008, nel pieno scandalo Valletto Poli, ha lasciato l'Elemora per alcune dichiarazioni rilasciate in tv e nel 2009 ha partecipato alla trasmissione Quelli che è Calcio e nel 2011 ha preso parte come concorrente a Baila. Reality show sul ballo condotto da Barbara D'Urso. Nel 2016, invece, è diventato uno dei concorrenti della prima edizione del GF VIP. Personaggio televisivo, ma anche attore. Nel 2005 ha girato con Daniele Interrante e la sua ex fidanzata Alessandra Pirelli il film Troppo Belli. Poi nel 2014 ha debuttato come attore di fotoromanzi e nel 2020 è stato protagonista del cortometraggio Il Postino Sogna Sempre Due Volte. E ancora, dal 2008 al 2010 è stato testimonial di vari marchi di abbigliamento e nel 2003 ha scritto un libro biografico con Alfonso Signorini. Ma veniamo alla vita privata. A uomini e donne Costantino ha conosciuto e si è innamorato di Alessandra Pirelli. Poi è stato legato per un breve periodo a Linda Santaguida. Nel 2013, invece, ha conosciuto l'indossatrice svizzera Elisa Mariani e dal loro amore è nata una bambina. Dal 2020 fa coppia con la ballerina Luba Mushtuc. Costantino Vitaliano ha un profilo Instagram e con l'account at Costantino Vitaliano vanta oltre 540.000 followers. Costantino Vitaliano Costantino Vitaliano